Vittoria sofferta della Vis Pesaro per 2-0 sulla Jesina al termine di un derby molto bello e combattutro tra due squadre che per opposte motivazioni cercavano la conquista dell'intera posta. La vittoria della Vis è la quarta interna consecutiva a prova che la formazione di mister Amaolo in questo periodo raccoglie tantissimo in casa. Per contro la Jesina arriva alla quinta sconfitta esterna consecutiva e addirittura dall'8 di novembre che non acquista punti lontano dal Carotti dalla Roboante vittoria per 3-0 sul campo della Recanatese. La partita che si apre subito con il fallo da rigore che apre la partita. Dopo 10 minuti di studio, al primo fondo la Vis passa. Cross dalla sinistra, Bartolini nel tentativo di controllare la palla viene strattonato da dietro dal numero 2 della Jesina Calcina. L'arbitro è a due passi ed assegna la massima punizione. Sul dischetto del rigore si presenta Falomi che spiazza Tavoni portando in vantaggio la Vis. A questo punto la Vis si chiude nella sua metà campo anche perché la Jesina ha una forte reazione. al ventesimo azione importante sulla fascia sinistra del numero 10 San Paolesi che traversa dalla parte opposta. Alessandroni a due passi cicca la palla e poteva essere l'occasione del pareggio per la formazione di Mr. Bugari. ventitreesimo del primo tempo. Lancio in profondità per Trudeau il quale in diagonale tenta la conclusione Venturi blocca. Quarantesimo del primo tempo. Occasionissima per la formazione Leoncella. Da azione d'angolo Tafani mette in mezzo, arriva Trudeau all'altezza della linea dell'area piccola che spara alto. Occasione al quarantaduesimo per la Vispesaro. Il tiro debole di Bartolini finisce tra le braccia di Tavoni. La ripresa si apre con il tiro cross di Carnevali che finisce sul palo esterno. Episodio importante della partita al decimo della ripresa. Fatica ferma Rossi in maniera fallosa. L'arbitro a due passi gli alza il cartellino giallo che poi diventa il secondo. E quindi Iesina in dieci uomini quando mancano alla termine della partita ancora 35 minuti. Occasione Vispesaro al venticinquesimo. Tiro cross di Bartolini. Né Falomi né Rucci riescono ad arrivare sul pallone. Comunque il tiro dell'attaccante del numero 9 della Vis è deviato e quindi si riprende con un angolo. Al ventinovesimo sostituzione Vespesaro. Entra Costantini e Falomi esce tra gli applausi. Quattro minuti dopo Costantino diventa protagonista della seconda marcatura. Passaggio filtrante in verticale di giorno. Costantino con un perfetto diagonale trova il secondo palo e di fatto chiude la partita. Ci prova ancora la Iesina al trentasettesimo. Trudeau ma Venturi risponde presente. Mischia finale all'ultimo minuto. Salvataggio sulla linea davanti alla porta di Venturi. Tre minuti di recupero e la Vis può così festeggiare la quarta vittoria consecutiva tra le mura amiche. Mister una vittoria della Vispesaro probabilmente con un posteggio troppo esagerato per quello che avete fatto dopo aver subito la rete su rigore per circa un'ora di gioco fino all'espulsione sicuramente non meritavate questo risultato. Purtroppo è stata una partita caratterizzata dagli episodi perché come dicevo poco anzi il fallo da rigore addirittura noi in panchina eravamo convinti fosse punizione fischiata per noi non so cosa ha visto il direttore di gara se c'era o non c'era non lo so perché c'è stata molta confusione non so neanche chi qualora avesse fatto fallo chi fosse quindi purtroppo ci ha girato male anche se guardiamo gli episodi anche domenica scorsa ci ha girato male perché comunque il rigore, il palo è un periodo così però comunque noi siamo tutti compatti vogliamo salvarci assolutamente non mi sembra che nessuno si tiri indietro io oggi non ho da rimproverare nulla la squadra perché comunque tutti hanno dato tutto anche quando eravamo in dieci nonostante sotto purtroppo ha girato così domenica è uno scontro diretto per la salvezza ci faremo trovare sicuramente pronti e cercheremo di vincerla a tutti i costi Mister, vista la prestazione anche di oggi come si spiegano questo rendimento davvero differente tra le vostre prestazioni in casa e quelle esterne ma ripeto sono purtroppo fuori casa cioè non ci sono scusanti non riusciamo neanche a fare un punto se andiamo a analizzare le partite ogni partita è stata diversa adesso mi viene in mente quella di Campobasso dove abbiamo lì forse subito ma anche perché c'era di fronte un avversario con ottimi giocatori poi il resto le altre volte sono stati episodi o errori nostri o episodi come oggi ti trovi svantaggio dopo 7-8 minuti e è difficile non c'è una spiegazione atteggiamento io comunque vedo che l'atteggiamento l'approccio, la squadra c'è lotta cerca di fare le loro giocate ci ha avuto due palle goal con Alessandroni e Trudo che se fai l'uno a uno lì è un'altra partita alla fine è uguale sempre in dieci quella palla non so come ha fatto a non entrare nonostante in inferiorità però è così purtroppo anche all'andata ci sono state tre sconfitte e siamo ripartiti dopo con una vittoria in casa e domenica giocheremo alla morte per tornare alla vittoria Mister, vittoria sofferta ma comunque un rilancio in classifica che direi? Ma quando riguarda la classifica è presto per guardarla era importante trovare i tre punti in un momento delicato contro un'ottima Iesina avevamo delle assenze importanti però sapevo che i ragazzi avrebbero fatto una grande partita così è stato abbiamo avuto un approccio giusto alla gara e tenevamo bene il campo con buoni trame di gioco e poi siamo passati in vantaggio di contro dopo sul 1-0 ecco abbiamo un po' smesso di giocare la partita si era un po' spaccata c'erano parecchie di partenza da una parte e dall'altra in qualche circostanza siamo stati fortunati però potevamo anche chiudere la partita con un paio di giocate di rimessa dove non siamo stati abili nel fare subito il 2-0 poi nella seconda frazione magari è venuto questa espulsione uno in più ci ha agevolato un po' le cose e abbiamo portato a casa una vittoria importante in questo momento del campionato quarta vittoria consecutiva in casa adesso manca qualcosina in più in trasferta sì è chiaro in casa stiamo facendo bene ma anche fuori casa abbiamo fatto buone prestazioni forse abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo e quindi dobbiamo lavorare per portare a casa dei punti importanti anche in trasferta grazie a tutti i nostri spettatori Grazie.